E provando, riceviamo. Io vorrei dire ai nostri amici e alle nostre amiche che sono qui stasera, allora, prova. Dio è amore. Che problema c'hai? C'hai un problema spirituale? C'hai un problema morale? C'hai un problema fisico? Prova. Invoca il Signore con tutto il cuore e tu otterrai quello che l'anima tua desidera. Noi non possiamo farti niente. Possiamo fare come quel profeta e possiamo fare come quella fanciulla e possiamo fare come il servo. Dirti qual è la strada. Non c'è bisogno che ti immergi sette volte in un giordano o in un gange, pensando che l'acqua possa fare qualcosa. L'acqua non purifica dai peccati. Solo il sangue di Gesù Cristo purifica dai peccati. Ma se tu accetti il messaggio, metti alla prova Dio. Dio opererà per te. Lui provò. Naturalmente, a me sembra di vederlo. E abbiate pazienza su un po' di fantasia. Accetta la logica del messaggio, del servo, e va e si immerge una volta, due volte, tre volte. Non avviene niente. Quattro volte. Cinque volte. E poi si rivolge al servo e dice, hai visto? Te lo dicevo io. Io ci sono... L'immaginavo. L'acqua dei miei fiumi è migliore. Signore, ha detto sette volte, soltanto cinque ne hai fatte. Immergi di ancora. Si immerse la sesta volta, riusci fuori. Lo vedi che non succede niente. Se non è successo per sei volte, può succedere la settima volta? Ha detto sette volte. E va bene, va. Per accontentarti lo faccio. Si immergi la settima volta. E quando esce, è puro. È libero. È guarito. Che vuol dire? Vuol dire che chi si accosta al Signore e prova, e lo mette alla prova, deve metterlo alla prova, ubbidendo interamente a quanto gli è detto, con tutto il cuore. Dio compie miracoli ancora oggi. E qui tutti noi, la maggioranza di noi, siamo dei miracolati. Non è vero? Perché il miracolo più grande è che Dio si è lottato per le guarigioni, Dio si è lottato per le liberazioni, ma il miracolo più grande è che Egli è venuto e ci ha liberato dai nostri peccati. Ci ha tolto l'ansia, la paura, il travaglio, la sofferenza interiore. Ci ha dato la pace, ci ha dato la gioia, ci ha dato la serenità, ci ha dato la certezza del perdono dei peccati e la certezza della vita eterna con Lui. Va, immergiti sette volte nel Giordano e sarai netto. Va stasera e prova, prova, prova. Credi a quello che Dio dice. Gesù ha detto venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi e io vi darò riposo. A Gesù debba andare? Non c'è neanche un'immagine qui. Ma perché voi pensate che Gesù, voi potete raffigurarlo con un'immagine? Gesù è Dio, benedetti in eterno. Egli ha detto dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, io sono in mezzo a loro. Gesù è qui. E' qui perché l'ha detto e noi crediamo alla Sua parola. E' qui perché sentiamo la Sua presenza. Vuoi provare? Vuoi provare? E' come quel servo ti diciamo, accetta, prova. E noi vogliamo aiutarti e vogliamo pregare per Te. E chiediamo i nostri capi in preghiera. Signore noi veniamo a Te. Per la Tua parola ci dici che dobbiamo metterti alla prova. Noi sappiamo che Tu sei vivente ed operi. E veniamo a Te nel nome di Gesù. Signore come Tu hai operato quando eri sulla terra. Come Tu hai operato attraverso i secoli. Opera anche per me. Intervieni nella mia vita perché io vengo a Te non per i miei meriti. Metto da parte tutti i miei preconcetti. Ma vengo a Te nel nome prezioso ed adorabile e onnipotente di Gesù. Rispondi alla mia preghiera e io ti darò la lote e la gloria per tutta la mia vita. Ti ringrazio, Signore, nel nome di Gesù. Benedetti in Averno. Amen.